Taiko in questo momento ha deciso di sviluppare in maniera sempre più efficace una tecnologia che si chiama Power G. La tecnologia Power G è una tecnologia wireless e ci permette di lavorare in maniera trasversale con tutti quelli che sono i prodotti del nostro gruppo. È una tecnologia ancora innovativa benché abbia già anni di esperienza alle spalle e permette di poter ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, l'installazione, permette di essere totalmente bidirezionale e quindi di dare la possibilità a tutti gli apparati di comunicare in maniera reciproca con tutto quello che è il mondo degli apparati installati e permette oltre a questo di avere un sistema di centralizzazione che si chiama Power Manage che utilizzando questa tecnologia ci dà la possibilità di creare una vera e propria infrastruttura, un vero e proprio ecosistema. Questo è il motivo per cui in pratica in questi ultimi tempi stiamo focalizzando molto l'attenzione su questa tecnologia e tutti gli apparati che stanno nascendo e che stiamo realizzando hanno tutti questa tecnologia come Firouge che permette di poter rendere tutti gli apparati tra loro compatibili.